Buongiorno, buona domenica dalla cava di Bauxite. La verità è che siamo su Marta. Allora siamo qui nella cava di Bauxite e abbiamo trovato chi vende l'aperone, cioè voi non ci crederete, ci stiamo bevendo una bella perone, mi arriva a Lack. Lei è una nuova componente del Migi Tour, la porteremo in altri luoghi, in altri posti. Che ce la fai? Allora abbiamo cambiato posto e abbiamo aperto un'altra birra. Quello che vi volevamo dire è che bugia che c'era qualcuno che vendeva le perone alla Bauxite. Musica 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 Guardate come cade, vedi come sta cadendo? Il latte lover dei poveri. Buongiorno In tutte le versioni. Stai scendendo? C'è chi fa l'astro del cigarettacili. C'è chi fa l'astro del cigarettacili. Musica 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 Musica